In pratiche abbiamo questo pischelletto nuovo che vuole mangiarsi un po' di appaegole ecco adesso te lo presento avanti venga venga allora io giuro che mi inchiappetterò l'appaegole a come si deve diciamo come sappiamo fare solo noi e state sicuri di questa cosa qua mi può mettere una firma qua grazie dimmi un po' come ti chiami scrivi qua fammi un po' vedere come si chiama questo adesso ti scrivo come mi scriviamo io aspetta trovo il buco ecco vedi un po' se l'ho scritto bene ecco saluto massonico ok bravissimo anche con te saluto massonico bravissimo e vi sono tutti felici e contenti